Allora, io sono, non vedete, dalla nascita purtroppo, ho anche cercato di fare degli interventi da quando ero più piccolo, anche andando all'estero, però non c'è stato nulla da fare, però comunque io sono contento di essere così. C'è il tatto che per me è il senso che ho sviluppato di più e poi anche proprio quella, in me c'è quella sorta di creatività, quindi come dire, penso che a parte la creatività poi c'è anche quella voglia di voler realizzare. Allora, mi hanno detto di questo corso di arte con il maestrolista, l'ho potuto fare anche grazie alla fondazione Sinapsi di Cava, quindi appena mi hanno detto che c'era la possibilità di poterlo fare, veramente io sono rimasto veramente molto felice, ero fuori di me dalla gioia perché non pensavo di poter fare una cosa così bella, una cosa meravigliosa. E quindi quando mi sono trovato lì a contatto con l'arte, proprio poter toccare le varie sculture, i vari materiali che dovevo utilizzare, allora mi sono cimentato e quindi ho partecipato e quindi è stata un'esperienza anche per me nuova. Grazie a tutti.